in scaletta c'era stappare la bottiglia adesso per il brindisi non facciamo il brindisi oggi sul Pordenone perché abbiamo già porta male volevo fare una rettifica tecnica se me lo concedi il primo video al quale abbiamo assistito dei difosi del Pordenone mi è stato fornito da Marco Michelin colgo anche l'occasione per fargli gli auguri di buon compleanno e mettiamola a sorridere oggi se non ti dispiace in settimana non ha fatto le nomine il Pordenone ha perso a Vicenza e ricordo per l'ennesima volta che Roxy Bar porta bene vedi Maracchi lo invitiamo il venerdì sabato segna, la domenica viene vedi Makan, lo invitiamo il venerdì sabato segna, la domenica viene Bielanovic, invitato il venerdì sabato segna, domenica viene Careri invitato da sette partite sempre migliori in campo Rosania invitato, migliori in campo contro il Novara Gonzales non ha visto Paola allora non dimenticarti di dire a Michelin venerdì che invitiamo qualcuno per domenica 10 qui fatti dare il nome anzi fatene dare un paio non si può mai sapere andiamo sul sicuro